Ciao, oggi voglio presentarti il martello della Icar. Questo è un nuovo martello per forgiatori e serve per realizzare delle barbette. Proprio grazie a questa forma particolare, diciamo un po' a punta, a palla, questa parte serve per realizzare la matarozza, cioè tirare fuori il materiale che poi verrà stirato con la parte del battente per andare a realizzare la barbetta. Vorrei soffermarmi sulla qualità del materiale, proprio del martello. Questo viene realizzato attraverso l'uso di bilanceri. Sono delle macchine grossissime, come dei martelli giganti, che è proprio come se andassero ad impastare il materiale. Questo acciaio è estremamente resistente. Questo processo di lavorazione fa sì che le molecole del martello rimangono compresse, quindi gli garantisce una durata nel tempo e soprattutto evita fastidiose scheggiature. Un'altra caratteristica di questo martello è il fatto che è perfettamente bilanciato, quindi praticamente quello che è il peso è distribuito perfettamente al 50%, sia per questa parte che per la parte del battente. Quindi dà una grande stabilità in fase di lavorazione. Un'altra caratteristica importante è il manico. Questo è un manico che è realizzato con materiali nordamericani e oltre alle caratteristiche tecniche di resistenza allo stress dell'utilizzo, ha un'altra caratteristica che assorbe praticamente il sudore della mano, quindi garantisce sempre una perfetta presa durante la lavorazione. Con questo è tutto e ti aspettiamo alla prossima. Ciao!